Orrore e shock in una RSA di Manfredonia. Anziani, degenti, abusati e vittime di violenza. Arrestati oggi quattro operatori sociosanitari della residenza sanitaria. La polizia ha eseguito un'ordinanza che dispone appunto gli arresti domiciliari a carico di quattro indagati, tutti operatori sociosanitari impiegati in una RSA di Manfredonia. Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Foggia, si fonda su una richiesta avanzata dalla locale procura della Repubblica e ha ad oggetto i delitti di maltrattamenti e di violenza sessuale nei confronti di alcuni pazienti ricoverati nella residenza. L'attività investigativa della squadra mobile di Foggia è iniziata lo scorso giugno, quando al commissariato di polizia di Manfredonia è giunta una lettera anonima in busta chiusa nella quale venivano narrati sommariamente i presunti episodi di maltrattamenti che alcuni operatori sociosanitari ponevano in essere nei confronti di alcuni pazienti ricoverati presso la RSA di Manfredonia. All'interno della busta vi era anche una chiavetta USB che conteneva alcuni file video e audio sulla quale erano state registrate le urla di un'anziana donna. Al fine di riscontrare quanto informalmente appreso, sono stati poi installati diversi presidi tecnici all'interno della struttura oggetto di denuncia, i quali, già dopo pochi giorni dall'attivazione, hanno permesso di registrare numerosi e reiterati abusi fisici e psicologici da parte degli operatori a danno di pazienti in età avanzata con patologie altamente invalidanti. Ha osservato il giudice che gli odierni indagati hanno posto in essere condotte prevaricatrici ed inutilmente punitive, ispirati a mera volontà denigratoria, ovvero ad una irrazionale intento di ricondurre a contegni di autocontrollo e disciplina soggetti del tutto incapaci a causa del loro stato fisico e mentale. Uno degli indagati è gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenze sessuali nei confronti di due degenti. Ad ogni modo, l'indagato, in quanto tale, è presunto innocente fino ad un'eventuale sentenza definitiva di condanna. La sua posizione penale sarà oggetto di nuove valutazioni in sede di dibattimento, procedimenti speciali con l'indispensabile contributo della difesa.